I carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di due diciottenni gravemente indiziati di tentato omicidio aggravato in concorso. L'attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli e coordinata dalla Procura partenopea ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati riguardo a quanto accaduto lo scorso 2 ottobre quando presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo era giunto un diciottenne in compagnia di una diciannovenne. Il ragazzo presentava ferite da punta e taglio al torace. Dalle indagini effettuate l'evento sarebbe da ricondurre ad un'aggressione avvenuta poco prima all'interno di un noto locale della Movida di Coroglio dove la vittima avrebbe tentato di proteggere la propria fidanzata aggredita. La diciannovenne infatti era intervenuta in difesa di una sua amica importunata da uno degli aggressori. Due minorenni, al culmine della lite, avrebbero accoltellato due volte il giovane e si sarebbero impossessati degli occhiali da vista e della collana d'oro della vittima prima di dileguarsi. Il tutto sarebbe avvenuto grazie alla collaborazione degli odierni destinatari della misura, i quali avrebbero tenuto ferma la vittima mentre due minorenni lo attingevano con due fendenti. Grazie a tutti.